Si tratta di un film altamente resistente ai graffi e ha la possibilità anche di essere rigenerato in caso di micrograffi, come ad esempio se utilizziamo una forchetta. In questo caso avremo della superficie rovinata che noi poi, grazie all'uso di una pezza, andremo a recuperare. La appoggiamo e utilizzando un ferro da stiro che trasmetterà del calore andremo a rigenerare la nostra superficie. Questa operazione durerà qualche secondo in modo tale che venga trasmesso il calore alla superficie stessa. Toglieremo il ferro da stiro e il panno e la superficie di ritornerà come nuova.